Buongiorno amici, sono qui davanti alla telecamera fissa o quasi fissa, un po' la si muove comunque, sono qui davanti alla telecamera per dirvi che oggi, come voi sapete, è il giorno di Pasqua e è un giorno di riflessioni, è un giorno che bisogna ricordarsi e volersi bene, anzi, questa mattina appena mi sono alzato, sono andato a trovare il mizio e la mia zia, una cosa bellissima, ci siamo abbracciati e gli ho chiesto al zio come stai, come va, come ti senti, lui mi ha detto, Rolando, la tua zia non la sopporto più, io uno di questi giorni l'ammazzo, ma perché zio, l'ammazzo, via zio, l'ammazzo, ma perché, ascolta, come tu sai io soffro di asma e la tuzia la reclama perché con l'asma, tu lo sai, ho bisogno di aria, ho bisogno ci sia un po' di corrente, sempre un po' di ventilazione e la tuzia reclama che c'entra le zanzare, la mattina c'entra l'agile del sole, la un po' a dormire, l'estate c'entra troppo caldo, l'inverno troppo freddo, è sempre a reclamare e poi tu sai, c'ho anche il diavete e mi ha presso la vista e ho bisogno della luce, ho bisogno di luce perché c'è del momento che non ci vedo per niente e la tuzia la reclama, con la luce accesa tu si spendono molte di soldi, la notte la finestra le è aperte e con la luce accesa niente alle zanzare, non la sopporto più. E io gli ho detto, zio, via, hai bisogno di ormai a questo punto, hai dei sessant'anni, tu sei insieme, hai bisogno di sopporti perché poi oggi è anche Pasqua, bisogna di voglia bene. A proposito, ho detto, zio, ma dimmi la verità, voglio sapere la verità, ma come stai te dall'ombelico in giù? Mi ha detto, non mi di nulla niente, se ti dico come sto, tu ci credi. E io gli ho detto, dove tu stai? E sono come un bambino di due anni, io come un bambino di due anni? Sì, come un bambino di due anni, mi cacca addosso, mi pisci addosso, come un bambino di due anni. Comunque, zio, sopporta e continuosi. Comunque, con queste parole, con questo racconto dei miei zii, vi auguro a tutti buona Pasqua, oggi già un giorno bisogna perdonare, ricordarsi però di tutto, ma perdonare. Comunque, vi auguro a tutti buona Pasqua, a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti, alla prossima Pasqua e buon anno. Si, si risente, ve li dico un'altra volta, buona Pasqua, ciao, alla prossima. Tac, e cada la pizza, tac, tac, a voi Roma. Ciao a tutti.